Signor Tompi, la sente anche lei questa, non lo so, fragranza natalizia? Che che odore è? Buono, buono! E appunto ragazzi, video speciale per il Natale! Con un po' di immaginazione facciamo finta che questo sia il maglione di Babbo abusivo, vediamo chi se lo ricorda. E questo sia un cappello natalizio, perché raga non li trovo più, non so che fine abbiano fatto. È dei Pokémon, ma sì dai, rosso, bianco e poi natalizio, però ho fatto l'overlay tutto animato con le stelline di Natale, vedete? Quindi ho fatto qualcosa di buono, perché buon Natale, buon Natale! In poche parole inviterò gente casuale dalla mia lista amici, la farò sfidare contro Tompi, se riusciranno a batterlo, cosa improbabile, vero Tompi? Improbabile! Andrò a regalare delle skin, dei balletti, e questa volta sì, l'atmosfera natalizia, ma non troppo raga, non sono ricco, non ho molti V-Bucks, potrei ricaricarli, quindi Tompi, pure se perdono non gli regaliamo niente, di solito regaliamo niente. Quest'anno, carbone, chi me ne amo, anzi, chi me ne amo. E se volete fare un regalo a me, mi raccomando, Diego tratti una posizione nello shop, eh, mi raccomando. E chi invitiamo? Invito uno a caso, Tompi. Allora, io non so se iniziare con Gala, ma non lo sa. Da Gala, iniziamo con Gala! Vai, vai, Gala, Gala. Vai, vai, vediamolo, con il microfono della Chico, vediamo se entra subito. Gala! Ciao! Gala, 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 mi devi regalare una skin per Natale. Sto facendo un video, invito gente a caso e perché me li fanno i regali. Se non me li fanno, butto fuori dal team. Lo sento anche tu, Diego. Sì. Ma puzza, non c'è più la fragranza natalizia. Forza, fammi un regalo. Non avevi bacco. Ma come? Allora, fuori dal team. Ciao. Vabbè, è stato breve ma intenso, Gala. No, a parte gli scherzi. Gala, dovrai sfidare Tompi. Se riuscirai a batterlo, ok? Decidi, box, build, zone. Ti regalerò una skin a piacere nello shop. Cosa ti piace nello shop? Cosa ti piace? Andiamo! Non ti piace niente? Andiamo, forzitto! Andiamo! Blinky, blinky, blinky. Ciao, andiamo, andiamo. Allora, scelga, signor Gala. Box, build o zone? Oppure niente? Perdi e vai. Zone Wars. Zone Wars! Se la gioca così! Ok, ok, ok. Se la gioca così in Zone Wars. Tanto cadrà da solo. Un round solo, eh? Un round. Un round. Un round. Botta secca! Mi dispiace. Andate. Quindi o vinco il culo o perdo perché... Sei scarso. Vai, entrate, va. Allora, vediamo se devo... Oh, Tompy, voglio i V-Bucks poi, eh. Faccio il reso se perdi, eh. Vai, no, vai, vai. Sto osservando Gala. Gala, se perdi non ti do niente, eh. Cioè, proprio, non c'è lo spirito natalizio. Non è come i video, via Ecchi. Mi regalavo lo stesso. Già stava a cascà. Già stava a cascà, Tompy. Già stava a cascà. Quello adesivo. Gala, quello adesivo. Vai, Tompy, spaccalo. Ma sei caldo, Gala? No? Va bene. Meglio. Dai, Tompy, sopprimilo. Io ho paura dei V-Bucks. Ma ti fanno 200. Sta' attento, questo fa 200, eh. Appunto, ti sta' attento. Se ti fanno 200, io devo regalare una skin a piacere. Poi so' soldi, eh. Qua, ragazzi, è crisi. Ma che fa? Però è bravo, dai. È Gala. Iniziamo subito con Gala. È W4, dai, Tompy. È W4, poverino. Ragazzi, vedete che sono furbo. Non l'ho fatto a fare un uomo. Se no, ero povero. Mi sa che sei andato. Morto di safe. Dov'è, Tom? Ah, ci ha rinunciato. Gala, è Natale. Mi dispiace, Gala, ti giuro. Quanto mi dispiace. Gala, quanto mi dispiace. Gala, mi dispiace. Ti giuro, l'avrei voluto fare il regalo. E fallo. Perché? Ma perché ha quitato? No. No, io lo stavo facendo. Ero già nel negozio. Ma io ero in realtà. Vabbè, guardate che maleducato. Vabbè, vediamo il prossimo. Zio Kree. Non so chi sia. Zio Kree. Zio Kree. Ma da play, fra. Ok, un pro player da play non puoi perdere. Dai, dai. Bella, zio Kree. Niente, non è nel canale vocale. Bella, zio Kree. Buongiorno. Ciao. Allora, una cosa. Ti va di sfidare, Tompy? Creative. Se lo batti ti regalo una skin a piacere. Vabbè, vabbè. Ti sta... Oh, se perdi niente. Se perdi niente. Se perdi gliela regalo il tuo indietro. No. Dovrei farlo. Se per... Oh, famicchia. Oh, un round. Hai decidi tra box, build e zone wars. Un round solo. Potresti anche fare un 200 a culo a Tompy. Capito? Tompy, non deve succedere. Se no, te denuncio. No, no. Non succede, non succede. Va bene, metti bene. Ok, se la senti così. Oh, ragazzi. È un PlayStation console player che non fa eco. Che è successo? Allora, due da play per adesso. Prossimo PC, Tompy, eh. Red, uno, let's go. Se no, è troppo facile, poverini. Sono svantaggiati. Play 4, bro. Play 4. Oh, non è male. Eh, Play 4, caccio. Tompy, niente pietà, eh. Qua ci sono in palio i miei soldi. Niente pietà. Potrei far spendere qualcosina al team. Ma no, eh, eh, sì. Vuoi uscire dal team? Ti immagini ogni hit un V-Bucks. Quindi se ti fa 200, 200 V-Bucks. Ok, ok. Ok. Dai, sì. Allora, se lo piccoli, mi regala lui la skin. Facciamo così. Guarda come scappa. Dai, Tompy, non piccolarlo, no? Mi è simpatico perché non fa eco. Se faceva eco, dovevi piccolarlo. Ok, ok. Sono primile e basta. Dai, che manca poco. Ti dico, quanta vita ha? 10. Fra, non so sottovalutare, eh. Allo spasso oro. Fra! Fra! Ero 200! Ero, mi hai fatto una. Mi hai fatto più ancora. Mi hai preso un colpo, Fra. Il cuore si è fermato. Il Natale abusivo. Grazie a te, brother. Alla prossima. E buon Natale, eh. Se non ci si sente. Grazie anche a te. Uno da PC. Uno da PC. Grazie. Uno da PC. Cubi. Bella, Cubi. Bella, brother. Sto registrando un video. In poche parole, ti vado a sfidare, Tompy? Se lo batti, ti regalo una skin a piacere nello shop. Se perdi, mi regali tutto lo shop. Regà, lo vedo di Dumbanti. Lo vedo un po' di difficoltà. Vabbè, dai. Visto che è Natale, facciamo che non mi dai niente te. Se lo batti, ti regalo una skin a piacere. Ti va, in creative. Decidi box, build, zone, works. Oh, un fight. Allora, scegli, Cubi, box, build, zone. Un round solo, eh. Box? Ok, oh. Manca a farla apposta. Abbiamo fatto tutte le tre le discipline. Sì, sì, zone, build, box. Ok, e Tompy non ha ancora perso. Guarda che se perdi, ti regalo niente, Cubi, eh. Lo dico. Non ti aspetta niente. Niente spirito natalizio. Lo spirito natalizio è che non mi regali niente te. Raga, abbiamo messo il pompa nuovo per non rischiare il 200. No, non è vero. È giusto per provare il pompa nuovo. Non è perché ho paura di spendere i b-bats. No. No. E poi provare il pompa nuovo. Se io quitto finisce il video. Se perde quitto faccio... Eh, beh, non prendo più il telefono. Non voglio spendere neanche in euro. Che Natale è? Che video speciale di Natale è? Io ho dato la possibilità. Perfetto. Perfetto. Durerà meno di gala. Non so quanto sia un complimento. Attento, Cubi ha le tattiche, eh. Le conosce. È pure pingato. Oh! Cubi, mi dispiace, fra. Te la volevo regalare io. Allaia. Io ti favo te. Sì, sì, ma no. Diego era uno che era proprio... Io ti favo te, fra. Ero pronta a regalartela, calcola. Però... Non si sentiva, eh? Si sentiva proprio nell'aria, vero? Mi dispiace, Cubi. Vabbè, sarà per il prossimo Natale. Dai. Se ancora campiamo, se nessuno muore... Io ho forza di bere le Red Bull dell'Eurospin. Prima o poi farò una brutta fine. Bella, Cubi. Buon Natale, comunque. Se non ci si sente. Eh, manco buon Natale, dai. Uh, anche a te, ciao. Anche a te, bro. Grazie, Cubi, ciao. Ragazzi, se l'hanno l'invito perché mi sto antipatico. Oppure Deva, pure Pol. Tutti quelli forti oggi mi stanno antipatici. Vediamo quelli scarsi, Toppi. Che sono più natalizi oggi. Non scambo, raga. Non scambo. Entrati invece. Diego? Bro? Minchia, bro. Minchia, bro. Ah! Eh! C'è un eco pazzesco. Minchia, è pazzesco. Bro. Eh, lo so che sei defraga. Allora. Allora. Ti devo mutare un attimo. Anzi, non ti muto. Ti spiego il video. Sto registrando un video. Se riesci a battere... No, dai. Come no, dai. Ah, sì, vabbè. Se riesci a battere, Tompi, in una disciplina, quindi, di Cinebox, Build, Zone, ti regalo una skin a piacere uno dello shop. Sì, vabbè. Mi posso giustare. Vabbè, ci provo, ci provo. Ci provo. Bro, io ti devo mutare, mi dispiace. Quanti anni hai? Dieci. Sei passato a PC, Fra. Sei passato a PC, Fra. Per Natale. Per Natale. Per Natale. No, no, per il mio complano è comunione e mi sono fatto un po' di... E pure matrimonio. E pure matrimonio. Tutto insieme hai fatto. Allora, bro, ti muto perché, sai perché, mi dispiace. Bro, ti voglio bene, mi stai simpatico. Ah, se perdi ti regalo niente, eh. Regalo niente, eh. No, lo so, lo so. Mi bello, portate che sto in tre del lobby. Grande, brother, ti muto adesso. Tre, due, uno, let's go. Box fight. E che pompa nuovo? Pompa nuovo hai messo, Tompy? Sì, sì, pompa nuovo. Iii, sì. Ma no, spazzo, non me l'ha messo lo spazio. No, Fra, io ti ammazzo. Se prendi in 200 ti ammazzo. È duro, non lo mettevo, l'ha messo. Va bene, va bene, va bene. Vediamo lui, vediamo lui. Che è passato a... Ah, sempre da pad potrebbe essere, eh. Non lo so. Che è passato da poco. Oh! Oh! No, Tompy! Tompy, sembra agguerrito. Vuole la skin. Vuole la skin. Vuole la skin. Oh, ma è bravissimo. Non so se mi sente. Non lo so se è da pad. Secondo me, sì. Sei da pad, Fra? No, sei passato da MGappa? Ancora non l'hai killato, Tompy. Poi, i secondi passano. I b-bugs salgono. Non è vero. Bello? Sì. Ah, ha messato, cavolo, ha messato qua. Cioè, per fortuna ha messato, dai. Oh, però, doppio edit fluido? Ahia. Tompy, Tompy, Tompy. Te ha distrutto, Tompy. Non rischiare. Bro, curati. Bro, puoi curarti. Quando va così, Tompy, si sta curando. Buon minimo. Babbo abusivo. Babbo abusivo. Vai. 104. Ti ha fatto 104. Tompy. Tompy. Fai sboccare. Tompy, fai schifo. Tompy. 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 Ti giuro che se perdi... Non lo faccio e lo fai te. Non sto scherzando, eh. Non perdono più. Ti ha fatto 104. Ti ha fatto 104. Fatti due domande. Mamma, ragazzi, che situazione. Eh, non prend... Fra, sto laggando. Io laggo. Non prende più. Sto laggando, non vedo niente. Allora, se vinci vedo. Se perdi, sto laggando. Eh, succede. Succede, mio ping. 4G. Ragazzi, un'ora e mezza. La sfida più incredibile. Oh, è bravo per lui, però. Questo lo abbiamo appassato dopo. Ah, mi dispiace, bro. Ti fa voté. Oh, non lagga. Non lagga. Che stupido. Non lagga. Incredibile, ragazzi. È davvero un po' da scammare. No. Allora, facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Bro, visto che sei stato... Molto. Bravo. Bravo. Ti meriti un balletto da Ducena. Dai. Tranquila, a me non mi interessa. Bravo, dai, te lo sei meritato. Hai giocato bene. Ti ho fatto un regalo di cacca. Però... Abbiamo un mazzo da inizio partita. Però... Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Grazie mille. Buon Natale. Buon Natale.